Nel silenzio delle candidature a sindaco di Capodorlando, il sindaco Franco Ingrillì ha rotto gli indugi dichiarando che sarà della partita in programma il prossimo 10 ottobre, giorno in cui i cittadini saranno alle urne per decidere i nuovi inquilini di Palazzo Europa. Il capo dell'esecutivo sta lavorando sia dal punto di vista amministrativo quanto dal punto di vista politico con aperture verso la civicità. Bisogna fare i conti con l'assenza del ballottaggio e la presenza della lista unica. Il 10 ottobre si vota. Il sindaco Ingrillì che fa? In questo momento il sindaco Ingrillì pensa a dover definire e sistemare alcune azioni residue della sua amministrazione. Dopodiché ci incontreremo insieme a tutto il nostro gruppo e partiremo sicuramente con un'idea un po' diversa perché c'è una forma elettorale diversa, quella della lista unica. Quindi la nostra intenzione è aprirci anche ancora di più al mondo del civico e alle forze sociali nella loro complessità. Sicuramente io ci sarò.